Il tempo al tempo, come una ricertola sull'acqua, oppure dei ruscelli nelle montagne, delle cascate naturali che noi non possiamo immaginare, dei serpenti colorati, cosa possiamo dire? Delle foglie che assomigliano alle foglie di bariwara, mangiucchiate, un animale alquanto strano con la lingua da fuori, un altro serpente con le squame, dei pitoni strani, dei sentieri abusivi. Ormai la vita ci riserva solo una cosa da fare, o da dire. Ma avete rotto cazzo, ok? Ma avete rotto cazzo, va bene? Ma avete rotto lì i coglioni? Va bene? Ma avete rotto... Ah, voi pensate io, con il sonno pesante, il cazzo mi sveglia. Ma io mi ricordo, appena mi sono svegliato, devo andare in bagno a fare la cacca. Ho fatto la cacca e ho appillato il bagno, perché sapete il bagno delle barche non è che. Dovevo fare il bidet? Mi sono buttato al mare e mi sono sciacquato il culo. Ahahahah. Ci vuole l'impassione con te, bebe. Un briciolo di pazzia, ci vuole il pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta ti cantai, per subito un brivido sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per non vale ancora così. Ci vuole passione con te, non devi mancare mai. Ci vuole il mestiere, perciò lavoro di cuore. Se io non ce la dovevi fare a mangiare la sfida... Farò... Sei per caso parente di Youtube Intio e usi il tovagliolo maestro Manga Crist. Ciao amici followers, benvenuti in questa nuova sfida di Cento Nighiri. Che bontà. Stasera non abbiamo acqua a Calabria. Abbiamo acqua dalla fontana. Ok. Grazie mille. A chi? Oh, grazie Luigi 96 su raga. Grazie mille. Grazie per 12 mesi, grazie per un anno. Grazie mille. Fategli una spama di 45 in chat. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Non c'è un deco Aiai Abbiamo vinto!!! Abbiamo vinto!!! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto cazzo! Abbiamo vinto! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Abbiamo vinto! Che partita! Che giocatori! Che giocatori! Abbiamo vinto!